...gli studenti a venire a dire la loro partecipazione. Vorrei chiedere però al sindaco un momento, perché hanno giustamente fretta di andare a Frusinone, in prefettura, credo, insieme agli altri sindaci e a rappresentanti politici. Vorrei chiederle che cosa pensa di dire al prefetto e che cosa pensate insieme di decidere o di attivare quale iniziativa in una situazione che è di estrema gravità. Quando siamo, come dire, agli sgoccioli, certamente in attesa di una sentenza alla quale abbiamo affidato le nostre effettive speranze di un rispetto di un diritto di cui tutti stiamo parlando, ma che nella realtà dei fatti è stato assolutamente ignorato e che quindi ha la necessità di essere ripristinato perché è appunto un diritto e perché questa situazione è assolutamente illegale e noi non l'abbiamo accettata dall'inizio. Credo che la disposizione che abbiamo avuto un momento fa qui sia, come dire, anche allo sguardo, oltre a questo bellissimo colpo d'occhio che si vede, perché finalmente accanto al comitato Salviamo l'ospedale c'è la presenza del sindaco, dei sindaci e questo può essere di buono auspicio e noi lo intendiamo come tale. Ecco, le chiedo molto rapidamente che cosa chiederà al prefetto, lei e gli altri sindaci del territorio. Grazie. Il sindaco e le amministrazioni comunali, comunque, professoressa, sono state presenti anche a TAR, è vero che i cittadini e le associazioni hanno... non è polemica, io non sto facendo polemica, è una realtà, infatti tutti i sindaci si sono espressi a loro cittadini per poter intervenire sul TAR, per poter andare anche oltre il TAR, ma per poter dare forza a quello che è stata un'iniziativa di alcuni cittadini, di 12 cittadini e poi delle associazioni, perché hanno riconosciuto e hanno fortemente, e questa è una cosa che riconosco sempre, hanno fortemente voluto la presenza della struttura sancaria sul nostro territorio. Al prefetto già gli otto sindaci, sei sindaci di otto sono andati, perché uno è commissariato e già hanno chiesto una cosa importante, quella che è l'incontro col commissario che sta decidendo la chiusura di questo presidio ospedaliero, perché io penso che il compito della politica, il compito di un amministratore è avere il colloquio con colui che oggi in forma di dictat sta chiudendo un presidio ospedaliero, senza rendersi conto di quelle che sono le criticità e le richieste dello stesso territorio, cosa che a suo tempo ho espresso al Presidente Volverini e ai suoi tecnici, ma che sicuramente, e questa è una dimostrazione, hanno fatto orecchie da margare. Quindi la richiesta è quella, una delle richieste come già abbiamo presentato al prefetto, è quella di poter colloquiare, poter presentare documentazione, poter presentare le richieste dei propri cittadini, poter presentare le richieste degli stessi sindaci che sono i rappresentanti di 70.000 cittadini, per poter far sì che lui anche si convinca e venga a vedere qual è il bisogno di una struttura sanitaria su 70.000 utenti. Oltre questo vedremo dopo il colloquio con il prefetto come poter intervenire, ma ci potrebbero essere anche atti estremi, perché credo che un sindaco che già ha fatto un atto estremo sulla propria pelle, sicuramente lo può fare anche come istituzione. E quindi questo proprio per me è stato iniziato una lotta, ma per fare il semplice, una lotta affinché potremo noi avere un risultato, un risultato per la presenza di una struttura sanitaria. Grazie signor Presidente, prende atto che questa vicenda non si chiuderà qui e che quindi staremo insieme nel proseguimento di tutte le iniziative, tutto ciò che sarà necessario fare. Allora chiamo i rappresentanti degli studenti. Un attimo di attenzione, ascoltiamo l'attentamento, perché diciamo che la nostra lotta è uguale, è la stessa dell'Urlovo. Allora, l'Iceano Antalitieri è in occupazione dal 27 novembre e il sindaco subito è dichiarato solidale per il candidato per la lotta all'ospedale. Questo perché al di là dell'illegalità con la quale è stata prevista la chiesa dell'ospedale crede che in qualsiasi stato, sia liberale, ipertecnologico o qualsiasi cosa, non si possa togliere il diritto gratuito a tutti a scuola e saluto. Allora ringraziamo Stefano e c'è l'altra rappresentante Marina Di Gola del ex istituto magistrale, sempre diciamo del liceo. Buongiorno, io volevo ripetere il concetto di Stefano, per cui il nostro governo sta tagliando i fondi fondamentali della nostra società, ovvero la sanità e la scuola. Noi ritengo assolutamente giusto che una città e comunque un territorio molto più ampio sia privato del suo ospedale, del suo diritto alla salute e siamo stessi a viaggiare con le ambulanze in ospedale a Roma, a Cosinone, dove sia. E magari, purtroppo, se stuzziare perderà anche la vita durante il trasporto, non è giusto assolutamente una cosa giusta. Soprattutto perché se la Costituzione dice che il nostro diritto alla salute è un diritto di tutti, non vedo perché Anani e la mia zona devono essere privati di questo diritto. per tagli che alla fine non servono. Si potrebbe benissimo tagliare da altre parti. Questa è veramente a dire a cosa mi riferisco. Ovvero, se non lo dico proprio, si potrebbero tagliare tutti i festini, tutti gli stipendi, la nostra milionaria, come se stessi stanno facendo le sacche per noi, quindi se non lo fanno, non lo fanno assolutamente. Anzi, si approfittano di noi, perché diciamo il senso della stessa, che comunque continuano a pagare le tasse, continuano a pagare l'Imo. Tutte le cose che ci mettono, continuano a pagarle e poi così che ci sattano, più tanti cittadini, tagliandoci con le scuole, è questa l'Italia nostra. E questa è l'Italia che facciamo, noi non so proprio, noi non lavoriamo quest'Italia e continuiamo a protestare sia a scuola che alla parità, per i diritti fondamentali che ci servono. Ci servono per vivere civilmente. E continuiamo a farlo, finché non capiscono, perché noi italiani non siamo tutti i polli, non stiamo facendo le loro regole, alcuni vi girano loro la mattina quando si accogliano dal letto e noi lo accettiamo. Non siamo tutti. Non siamo tutti. Non siamo tutti nello Stato. Non siamo tutti nello Stato. No, che politici non nello Stato. Grazie Sandro. Oggi anche il tempo è stato clemente e a voi un ringraziamento per aver partecipato perché avete dato segno di forte sensibilità e del bisogno che abbiamo di una struttura sanitaria sul nostro territorio. Il ringraziamento va anche agli onorevoli presenti perché abbiamo onorevoli regionali, l'euro parlamentare, quindi che la sensibilità io penso che sia stata scossa totalmente. Poi tra voi vedo i bambini, i ragazzi, i commercianti, le associazioni, i sindacati. Non voglio continuare l'elenco perché dobbiamo essere coincisi negli interventi e poi andare in prefettura. Però sappiate che noi siamo pronti a tutto perché questa struttura sanitaria debba esistere. Non voglio parlare di ospedale ma parliamo di struttura sanitaria che riesce a garantire un'emergenza, che riesce a dare una certezza di sopravvivenza, cosa che in questi ultimi giorni sicuramente abbiamo perso. In tre giornate, senza neanche l'assistenza di specialisti come il cagiotro e l'anestesista, sicuramente è successo qualcosa di grave, ma è inutile iniziare a farne un elenco. Lo squillo dell'ambulanza è stato un segno importante. Questi squilli forse, se continuiamo ad avere questa chiusura del presidio, non li potremo più ascoltare. Ma anche se noi vorremmo sempre non ascoltare un'ambulanza, però sappiamo che quando c'è questo squillo vuol dire che qualcuno sta correndo, sta per andare a salvare la vita. Quindi questo è il segno importante dello squillo di un'ambulanza. E ringraziamo coloro che operano attualmente così in emergenza e riescono a dare salvezza. Certo, oggi chi ci ha governato, chi ha messo avanti la finanza, la salute, non ci può fare onore. Anzi, ci dispiace fortemente, ci truncia fortemente e quindi vogliamo che ripenga ripreso almeno quello che è il diritto alla salute, quello che è l'articolo 52 della Costituzione, a cui tutti quanti noi da anni stiamo dando fede alla Costituzione. E quindi ecco che il diritto alla salute è un diritto averno, ma è anche un dovere darlo. E quindi i nostri politici, coloro che oggi stanno mettendo avanti il dio denaro, è ora che pensano un pochino che il tutto, che la nazione è costituita da cittadini, è costituita da esseri umani e la sanità non è altro che la base per la sopravvivenza di un essere umano. Quindi sulla base di questo io non posso che, anche per non di un caldo, dare parola ad altri, che invitarli a mantenere questo sostegno forte per il presidio sanitario, questo sostegno forte per le altre manifestazioni e anche per la perdita dei posti di lavoro che vediamo che la videoconna è così, altre ditte, si cita la videoconna perché è la più grande, ma sappiamo che ce ne sono anche altre che stanno chiudendo. E quindi ecco che veniamo a perdere anche quello che è l'economia, l'economia del territorio. Ora io non posso che invitarli a seguirci per andare in prefettura, ma sicuramente io voglio invitarvi a un altro appuntamento importante che è quello del 4 dicembre quando ci sarà l'udienza al TAR Roma, dove tutti quanti noi sindaci siano presenti e ringrazio i colleghi sindaci che sono qui con me perché questo ricordiamo che non è un presidio di Anani ma è un presidio del territorio, un presidio di altri otto paesi, un presidio di 80 mila che deve dare sicurezza alla sanità per circa 80 mila utenti, 80 mila persone. Anche voi fate parte di queste 80 mila persone. Quindi l'invito e poi al 4 dicembre, oltre che andare adesso a Frosinone, ma il 4 dicembre tutti presenti al TAR perché la magistratura del TAR possa rendersi conto che effettivamente oltre i sindaci che rappresentano le 80 mila persone ma c'è anche una buona rappresentanza. Invito a questo anche i politici, sia regionali che europarlamentari, in ogni ordine grato e io mi farò promotore sugli altri politici affinché siano presenti il 4 dicembre perché la magistratura possa tener conto di quello che ha scritto il Consiglio di Stato, che questo presidio ospedaliero è importante per il territorio e non bisognava chiuderlo. Invece la Asle ce l'ha chiuso, la Regione ce l'ha chiuso, il commissario d'acta ce l'ha chiuso. Quindi anche il TAR si deve rendere conto dell'importanza di questa struttura sanitaria sul territorio. Quindi tutti quanti siete invitati il 4 dicembre mattina ad essere al TAR di modo che anche la magistratura possa rendersi conto di essere sensibilizzata all'importanza di questa struttura. Grazie. 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 Grazie.